Ed ora tutti ci credono, il primo è il governatore della Calabria Mario Oliverio, mentre sull'alto di Reno Cosentino è il sindaco di Praia Mar Antonio Pratico. Ma per cantare vittoria bisognerà attendere l'ok del Parlamento alla manovra di bilancio del 2017 che verrà approvata tra oggi e lunedì. Intanto l'emendamento che dà la possibilità ai presidenti di regione di diventare commissari straordinari alla sanità è passato in nottata in commissione bilancio della Camera. Il primo a commentare la notizia è stato il sindaco di Praia Mar Antonio Pratico che ha detto «Ore iniziamo a ragionare, questo risultato ci fa ben sperare. Oggi viene ripagato in parte il mio silenzio nei confronti di alcune polemiche pretestuose. Voglio precisare, ha continuato il primo cittadino, che non c'è nulla di definitivo, sicuramente abbiamo un elemento in più su cui porre la nostra fiducia. Ma con Oliverio Commissario il CAPT tornerà ad essere ospedale? Non dobbiamo dimenticare che nel corso della campagna elettorale per le regionali del 2014 il governatore ha preso impegni precisi nei confronti delle popolazioni della riviera dei Cedri. La sanità e il nosocomio di Praia Mare sono stati al centro dei pensieri del governatore. Ma le tensioni all'interno del PD calabrese, nate proprio dalla decisione di Renzi di non assegnare ai presidenti di regione il ruolo di commissari alla sanità, hanno fatto naufragare i progetti di Oliverio. Il cambio di rotta del governo, a ridosso del referendum costituzionale del 4 dicembre, sa di baratto in favore del sì, ma nulla vieta di leggerlo anche come un trattato di pace siglato tra le fazioni del PD calabrese. Certamente il CAPT di Praia Mare necessita di interventi, il peggiore dei depotenziamenti è quello che ogni giorno si consuma tra le corsie. Ridotti quasi a zero gli operatori sociosanitari nella RSA medicalizzata, i turni degli infermieri non riescono sempre ad essere garantiti, il punto di primo intervento funziona alla meno peggio, i lavori della risonanza magnetica vanno avanti a passo di lumaca, insomma c'è poco da stare allegri. Intanto fuori le mura dei palazzi la battaglia non si ferma, Gino Spolitu sarà oggi a Corigliano Calabro all'incontro nel quale si discute del progetto del nuovo ospedale della Sibariti del cui partecipa proprio Oliverio. Al Blu Eden in località foresta di Praia Mare alle 17.30 Antonio Mandarano del Movimento l'Alternativa, Raffaele Papa di Italia del Meridione, Francesco Marsiglia di Sell e l'ex dirigente dell'ASP di Cosenza Tulio, la INO, spiegheranno una nuova iniziativa ed è proprio il caso di dire chi vivrà vedrà.